Una grigliata per festeggiare l'uccisione del maiale, un rito piuttosto comune nel Cilento, soprattutto nei piccoli centri. Questa volta l'appuntamento culinario, secondo alcune notizie, si sarebbe trasformato in un focolaio di casi positivi al Covid-19. Sei le persone che sarebbero rimaste contagiate da uno dei partecipanti al pranzo. Tra i primi a risultare positiva, anche una donna incinta. E quanto sarebbe accaduto a Mandì, a piccola frazione del comune di Ascea. I residenti, però, fanno quadrato e raccontano anche un'altra versione. Secondo le prime ricostruzioni, qualche giorno fa, alcuni amici si sono ritrovati per l'uccisione del maiale. Finito il lavoro, avrebbero ben pensato di organizzare una grigliata per assaggiare insieme la carne appena macellata e dunque suggellare il momento con un buon bicchiere di vino. Nulla di strano se non fosse che il banchetto sarebbe stato organizzato nonostante i divieti anti-Covid e con tutti i rischi del caso. Le conseguenze, dunque, non sarebbero tardate ad arrivare. Qualche giorno dopo, alcuni dei presenti al banchetto si sono sottoposti al tampone. Sono stati sufficienti i primi risultati per accertare la positività. L'episodio ha sollevato non poche polemiche. Ma da Mandì approvano a raccontare i fatti diversamente. La nostra è stata una delle poche località rimasta per tutto questo tempo Covid-free. Ed ora girano voci di una festa in caso o addirittura dell'uccisione di un maiale in strada, come accadeva un secolo fa. Ma è giusto tranquillizzare tutti che non è stato così. Non solo. Dopo le sette positività riscontrate, molti abitanti si sono sottoposti al test. 16 persone sono risultate negative. Per altre 8 si conoscerà il risultato. Intanto aumentano i contagi anche a Policastro, dove si sarebbe passati da 5 a 16. Anche qui ci sono polemiche per delle voci che farebbero risalire il focolai ad una festa. Ma anche in questo caso i residenti smentiscono.